Emergenza Xylella, altri 7 ulivi infetti a Fasano. Da maggio sono state registrate 43 piante malate tra le province di Bari e Brindisi. Sentiamo. Altre 7 piante colpite da Xylella a Fasano. Lo comunica info xylella.it che specifica che sono 43 gli ulivi colpiti dalla malattia tra le province di Bari e Brindisi. Dei 7 ulivi infetti, il più a nord dista circa 200 metri dalla zona Cuscinetto e dall'agro del comune di Monopoli, nel cuore della piana degli ulivi monumentali. Per Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, bisogna intervenire tempestivamente perché l'alto numero delle infezioni riscontrate a Fasano, come già avvenuto a Carovigno, disegnano uno scenario già visto a Oria e Francavilla. La Coldiretti denuncia anche che dall'autunno 2013, data in cui è stata accertata su un appezzamento di olivo a Gallipoli, la malattia si è estesa senza che venisse applicata una strategia efficace per debellarla, facendo seccare gli ulivi leccesi, brindisini, tarantini e ora quelli baresi. Per l'associazione, monitoraggi, campionamenti ed espianti restano l'unica soluzione per fermare il contagio, visto che non esiste ancora una cura. Intanto, l'autorità europea per la sicurezza alimentare ha lanciato l'allarme sulla diffusione dell'axilella, che minaccia anche il resto del territorio europeo, visto che sono stati individuati altri casi di malattia in Francia, Spagna, Germania e Portogallo.